Prima di continuare, iscriviti al canale e lascia un mi piace, grazie. Passione inaspettata tra Aurora e Marco, la storia segreta svelata a uomini e donne in un inatteso colpo di scena. Emerge la verità dietro l'affascinante relazione tra Aurora e Marco nel mondo tumultuoso di uomini e donne. Senza alcun timore di rivelare il proprio cuore, Aurora confessa l'esplosiva della sua affinità con Marco, un giovane che ha catturato la sua attenzione in modo irresistibile. I due protagonisti di questa storia romantica sembrano non avere alcun problema a esplorare l'intensità della loro connessione, creando una trama avvincente che tiene incollati gli spettatori. Con parole cariche di emozione, Aurora spiega che non ha dubbi riguardo ai suoi sentimenti per Marco. Una storia che si sviluppa tra sospiri, desideri e l'incanto di un amore che sfida le aspettative. Mentre la coppia balla tra il chiaro e l'oscuro della loro relazione, emergono dubbi e speranze che danno vita a un affascinante labirinto emotivo. Il pubblico di uomini e donne sarà sicuramente coinvolto in questa avventura romantica, dove Aurora e Marco navigano tra le intricanti vie dell'amore, con tutto il fascino e la complessità che solo una storia segreta può offrire.